Circo contemporaneo, danza e video invadono piazza e giardini di crema con Close Up, festival internazionale giunto alla sesta edizione. Sono tanti gli ospiti attesi in città per numeri di cioccoleria, ma anche prime nazionali di corti e video. Close Up è unico perché trasforma crema in un palcoscenico internazionale, ospita compagnie che arrivano da tutta Europa per presentare spettacoli di grande impatto e di grande emozione. Perché l'obiettivo di Close Up, che lo rende unico, è quello di valorizzare il patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico della città. E così faremo anche nei giorni successivi. Quanto è importante che aziende del territorio sostengono il territorio e i suoi eventi? Io ritengo che sia assolutamente importante. Noi siamo un'azienda che ha più di 100 anni di storia, ci conoscono tutti nel cremasco e siamo ben felici di aiutare con questa sponsorizzazione il Comune di Crema. Forte legame col territorio e quindi punta molto a partecipare all'attività culturale della città e favorire eventi di questo tipo che sono molto particolari a livello anche internazionale e che portano un valore aggiunto a tutto il territorio. Soddisfazione da parte del Comune per una rassegna che è ormai uno degli eventi clou dell'estate. È fondamentale anche per la capacità di attrarre delle compagnie internazionali. Quindi è un'opportunità per i cittadini di Crema e dintorni di poter vedere degli spettacoli che valorizzano il nostro patrimonio artistico di professionalità che vengono dall'estero. Close Up è un appuntamento che chiude in un certo senso l'estate e apre poi la stagione autunnale ed invernale. Grazie. Grazie.